Sono Begolino! Ma non parla così! Ciao Begolino! Amici dei social! Benvenuti! Begolino Tutorial! Attenzione da non confondere con Begolino TV che è un'altra cosa. I tutorial li facciamo con gli amici, con le persone che lavorano all'interno di Radio Bruno. Stavolta è un amico, un friends, capirete anche perché lo chiamiamo friends. Signori, Patrick Salati, per ora senza i friends, il tenore in pigiama! Eccolo qua! Ce l'abbiamo! Che meraviglia! Fantastico! Allora signori, il tutorial per Patrick che addirittura è arrivato qua negli studi e non conosceva Begolino. Infatti gli abbiamo dato subito uno scappellotto! E fra l'altro lui confonde Begolino con Bagolino, che è un'altra cosa! Le bagosse! Sono della classe di Bagolino! Non Bagolino, Begolino! Eh sì, ecco va bene, non ce la facciamo! Attenzione ci facciamo il tutorial. Begolino cos'è? È un antistress. Noi lo teniamo qua, io lo tengo qui. Anzi, lo tengo io, così facciamo. No, devi tenere il dito indice in erezione orizzontale, non verticale perché dopo... No, perché... Erezione orizzontale. A un certo punto, io darò 3 2 1, partiamo e tu con la voce, devi fare Begolino, Begolino, Begolino. Però tu che sei un tenore, farai Begolino, Begolino. E devo andare verso l'ora. Ecco, ma mi raccomando il movimento del Begolino, eh? Prova a muovere il dito così. Così, così, così. Bravo! Begolino, Begolino! Vabbè, perfetto. Perfetto, era la prova quella, sì. Attenzione amici! Sì, ci siamo, è un momento storico. Ecco, il tenore in pigiama con Begolino, Begolino. Prego. Sei pronto? Prontissimo! 3 2 1, vai! Begolino, Begolino, Begolino! Grande! Come stai, Patrick? È meglio? È cambiato la vita. È vero? Guarda, c'è il sole fuori, eh? Non mi sembra che ci sia, beh, vabbè, per lo stesso. Non esagerare. Dentro di te c'è il sole. Sta benissimo. È alla grande. Ha funzionato, Begolino. Begolino tutorial. Sempre numero uno.